Ciao a tutti, sono Alessia, BMW e Mini Genius di Maldarizia Automotive SPA e lei è la nuova BMW Serie 2 Active Tourer. Modello 220i con un motore 1.5 benzina da 170 CV e tecnologia a mild hybrid a 48V, allestimento M Sport con cerchi da 18V, colore Portimao Blue, ma quella che ha guidato Aldo è la 218i Black. Un piccolo monovolume dallo stile aggressivo, forme taglienti, fari full di serie, posteriore con i gruppi ottici più sottili e allungati e ora l'apertura elettrica del bagagliaio è di serie. Ma conosciamola meglio, più moderna, più tecnologica, più e confortevole. La nuova Serie 2 Active Tourer è sofisticata, un'estetica accattivante e una tecnologia all'avanguardia caratterizzano la rinnovata Serie 2 Active Tourer. Bella, performante e sicura, la BMW Serie 2 Active Tourer nella dotazione di serie comprende il cruise control con frenata automatica, il mantenitore di corsia, l'avviso di collisione e la telecamera posteriore per facilitare le manovre. Hola, salve! Serie 2 Active Tourer, ovviamente BMW, ma ovviamente made by Maldarizzi. Abbiamo avuto per tutta la settimana il piacere di guidarla, ma soprattutto il piacere di conoscere gli spazi a bordo. Eravamo in quattro, con tutta l'attezzatura annessa e i bagagli per stare una settimana fuori e ci siamo trovati davvero, davvero comodi. Sia durante il viaggio, grazie alla comodità dei sedili anteriori, grazie a tutti gli ADAS che ci permettono di guidare in maniera più tranquilla e non sentire le oltre dieci ore di viaggio che abbiamo fatto. Mi piace molto il restyling all'interno della macchina che richiama la nuova X, quindi abbiamo il tunnel centrale che è molto più di design. Mentre per quanto riguarda il bagagliaio, e quindi torniamo allo spazio a bordo, abbiamo un doppio vano, un doppio fondo nella parte bassa. L'abbiamo trovato molto utile e ci è servito durante il viaggio per trasportare tutta la nostra attrezzatura. Un saluto dalla regina delle monovolume compatte che vi aspetta negli showroom Maldarizzi a Bari, Trani e Foggia e su maldarizzi.com. Venite a provarla, vi aspettiamo! Grazie. 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 Grazie.